Sì, ciao, scrivi. Allora, quando tu fai il padre dei siti, qua fai questa cosa qua, poi fai Fa, Do, Sol, poi ricominci. Ok? Qua invece, ding, fai questo, alziamo la tecana, ok, sei lì dietro, sei coperto dal manico, non sapevo io, perché tu adesso, ah sì, ciao, scrivi, te lo fai una panna qui. Qui tu fai Sol, Do, ma lasci fermo il mignolo lì, Fa, Do, ok, basta, questo è il padre dei siti. Mignolo, ci metto il mignolo, perché ci metti sempre il mignolo? Allora, faccio una cosa così, boh, non so se si veda. Poi bisogna che si vede il resto del manico, perché se no non si vede niente, fai Cinque, Quattro, Do, ok? Ecco, ricordati questa cosettina qui, se tu ci metti il mignolo, fai, fai basso, ritogli il mignolo, rifai. Qua bisogna che si vede il resto del manico, ok? Ok, sta andando, allora, si fa, uno, due, quattro, due, quattro, zero, e rilasso, ok? Ok, basta, ti amo. Il pezzo si fa così, dopo. Il pezzo si fa così. Diventi famoso. Addio Cristo. Ok? Sì. Tre volte questo. Poi fai queste due note qua. Che cazzo. Queste due qua. Una volta, e poi due volte insieme. E due volte questo. Poi di nuovo tre. E vai avanti sempre così. Ci sei? Va bene.